... Buonasera a tutti, seconda edizione del Tre Giornali dell'Umbria che apriamo dalla cronaca, un'attività commerciale a Foligno è stata chiusa a seguito di un provvedimento emesso dal prefetto di Perugia, Armando Gradone, provvedimento di interdittiva antimafia. Sui sviluppi torneremo nelle prossime edizioni del nostro Tre Giornali che adesso ci porta a Perugia perché c'è stato un furto nella serata di martedì nella periferia cittadina nel quartiere di Sert'Andrea delle Fratte che ha riguardato la Central Car Service di Perugia. L'intervento proprio del titolare della struttura, il Presidente di Central Car Service Ettore Pedini che ha cercato di mettere in fuga, vedete nel fermo immagine delle telecamere di sorveglianza, il malvivente che era riuscito a penetrare all'interno dell'azienda le 19.46 di martedì sera quando l'azienda era già chiusa. Il Presidente Pedini era rimasto dentro ancora per svolgere attività lavorativa e è riuscito a mettere in fuga il malvivente, racconta all'agenzia AVI News ho pensato in un primo momento a un falso allarme e quando sono sceso mi sono trovato tu per tu con un uomo dal volto coperto che poi è fuggita, persona che poi è fuggita e non è stata rintracciata. Non ha rilevato l'allarme e la vigilanza privata, ha concluso il Presidente Central Car che non è neanche intervenuta dopo la mia segnalazione. Poi l'arrivo della polizia giunta sul posto quando tutto ormai era finito il furto di lievissima entità sarebbe stato rubato soltanto l'incaso di una macchinetta comunque del caffè all'interno dell'azienda. Andiamo ancora a Foligno dove gli agenti di polizia hanno denunciato una sessantenne per custodire le armi, si tratta di fucili di caccia all'interno di un armadio di legno non blindato, quindi contravenendo alla normativa vigente per non aver comunicato il trasferimento d'altro comune delle stesse armi secondo quanto disposto al testo unico delle leggi pubblica sicurezza dunque l'uomo è stato denunciato. Ad Assisi invece all'interno di un centro commerciale si è registrata una rissa che ha portato all'intervento dei agenti di polizia che hanno riportato la calma interessate dall'episodio una donna di 38 anni e un'altra di 32 anni al termine di accertamenti dopo aver inserito l'evento nell'applicativo consueto gli operatori hanno acquisito le querele delle due parti che poi sono state girate all'autorità giudiziaria. Andiamo ancora a Foligno per occuparci di farmacie pubbliche la scorsa settimana vi abbiamo riportato i contenuti della conferenza stampa dei sindacati in riferimento alla situazione di alcuni dipendenti delle farmacie pubbliche in particolare a Foligno in cui si parlava di comportamento antisindacale la replica arriva in una nota da parte dei vertici di AFAM che parlano invece di un comportamento assolutamente in regola non c'è stata neanche alcuna penalizzazione dei dipendenti con orari massacranti questo secondo quanto riportato dalla nota sono stati predisposti dai direttori nel rispetto del monte ore previsto contratualmente per ciascun dipendente si spiega nel comunicato di AFAM non esiste alcuna rivolta nelle farmacie comunali di Foligno si spiega, si ricorda che i sindacati promotori rappresentano 14 degli attuali 28 dipendenti questi alcuni passaggi della nota di replica da parte di AFAM la conferenza stampa della scorsa settimana dei sindacati e adesso parliamo di sanità la cura essenziale del 2020 che registra una sufficienza soltanto in 11 regioni quindi durante la pandemia buoni però i risultati il bilancio della regione dell'Umbria che ci spiega nei dettagli Elena Badrani C'è anche l'Umbria tra le 11 regioni che nel 2020, anno dello scoppio della pandemia hanno superato la soglia di sufficienza sia per quanto riguarda la prevenzione sia l'assistenza territoriale e ospedaliera secondo i risultati del monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza LEA pubblicati dal Ministero della Salute a registrare un ponteggio superiore a 60 in tutte e tre le macro aree sono Piemonte, Lombardia, provincia autonoma di Trento Veneto, Friuli, Venezia Giulia Emilia Romagna, Toscana, Marche Lazio e Puglia e appunto l'Umbria dal pronto soccorso ai trapianti passando per gli screening tumorali nei livelli essenziali di assistenza LEA rientrano le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro il pagamento di ticket poiché in seguito allo scoppio dell'emergenza Covid i servizi sanitari regionali hanno dovuto attivare percorsi per garantire l'erogazione delle prestazioni essenziali e urgenti e definire misure di contenimento del contagio il Comitato LEA ha stabilito che il monitoraggio per il 2020 fosse a scopo informativo diverse le criticità attribuibili all'effetto pandemia si legge nella relazione a cura della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria nell'area ospedaliera hanno subito un peggioramento marcato rispetto al 2019 screening, vaccinazioni, controllo su animali anche l'area distrettuale registra variazioni anomale come l'aumento dei tempi nell'area emergenza-urgenza la riduzione e consumo di antibiotici ricoveri inappropriati per la prima volta il monitoraggio è stato redatto attraverso il nuovo sistema di garanzia strumento che rappresenta una svolta significativa nelle metodologie di monitoraggio dei LEA e adesso l'andamento del contagio da coronavirus in Umbra in situazioni di stabilità per quanto tiene i dati di oggi mercoledì 8 febbraio sono 118 nuovi casi di positività nessun decesso nelle ultime 24 ore vedete stabilità sul fronte ai ricoveri complessivi 121 di pazienti affetti da coronavirus in Umbria meno 2 rispetto a martedì di cui 5 in terapia intensiva sono 1300 circa attualmente positivi meno 51 rispetto a ieri 95 i tapponi molecolari più di 1000 test antigenici prodotti 169 i guariti nell'ultima giornata parliamo di caro bollette e di una vera e propria boccata d'ossigeno per quanto riguarda le piccole e medie imprese dell'Umbria che hanno risposto bene al caro bollette secondo i dati del monitoraggio di Union Camere andiamo a sentire a Lina Balerani Boccata d'ossigeno per le piccole e medie imprese rispetto al caro bollette nel primo trimestre 2023 rispetto al trimestre precedente si è registrato un meno 24% per l'elettricità per il gas e un meno 27% a gennaio 2023 in confronto a dicembre 2022 per le piccole e micro imprese dell'Umbria si può stimare un risparmio di almeno 27 milioni di euro per la bolletta di energia elettrica e gas rispetto a quanto pagato nel trimestre precedente è quanto emerge dal monitoraggio dei costi dei servizi pubblici locali sostenuti dalle piccole e medie imprese operato da Union Camere Borsa Merci Telematica Italiana e Tagliacarne con il supporto di REF Ricerche calcolato sulla base dell'ultimo aggiornamento comunicato da Arera del prezzo della materia prima il regime di maggior tutela l'impatto sulla sospensione delle attività da parte delle imprese come l'impatto sulle vere e proprie cessazioni aziendali si è verificato ma è stato inferiore a quello temuto Giorgio Mencaroni presidente della Camera di Commercio dell'Umbria ha commentato che la notizia della flessione delle bollette delle energie elettriche e del gas dopo i picchi intollerabili del terzo trimestre dello scorso anno era attesa ed è decisamente positiva ma non dobbiamo dimenticare dice che le bollette sia dell'energia elettrica sia del gas restano di molto superiori a quelle pre-pandemia e che non sono escluse nuove impennate in vista del riavvio degli acquisti di gas per garantire i livelli elevati degli stoccaggi questo per dire che il tema del caro energia resta e deve essere tra i punti prioritari in cima all'agenda del governo sia europea sia nazionale è stato arrestato di nuovo un uomo di Perugia con l'accusa di molestie sessuali minorenni era stato condannato a due anni nel 2018 per aver molestato alcuni giovanissimi e avrebbe abusato di un minorenne della squadra di basket che allena secondo quanto riporta l'ultimo aggiornamento l'uomo allenatore di questa squadra di basket evitava i ragazzi nel suo alloggio con la scusa di praticare massaggi terapeutici nonostante non avesse alcun titolo gli agenti hanno accertato gli abusi in particolare su un ragazzo che in quel periodo aveva 13 anni e poi in alcun momento sono scattati i provvedimenti e le manette per l'uomo sembra che lo stesso copione sia stato seguito dall'indagato anche negli episodi successivi per arrivare proprio a quelli recenti recentissimi andiamo adesso a Narni a Nera Montoro per quelle che sono le proteste di alcuni residenti nella zona industriale interessata dall'attività di molte imprese cattivi odori quelli denunciati dai residenti problema che verrà fronteggiato adesso con un tavolo permanente a seguito di un incontro che si è tenuto tra l'amministrazione comunale di Narni le aziende locali e un comitato cittadino dopo il caso scoppiato negli ultimi mesi a seguito dei cattivi odori nella zona relativa all'impianto industriale di Purify a Nera Montoro è stato costituito un tavolo permanente dal comune di Narni per un confronto periodico sullo stato ambientale dell'area interessata la decisione è arrivata da parte dell'amministrazione di concerto con le aziende di Nera Montoro e il comitato cittadino al termine di una riunione convocata dal sindaco Lucarelli è stata raggiunta la decisione di creare una modalità di comunicazione tra tutti i soggetti funzionare allo scambio di informazioni utili in tempo reale per rapidi interventi riparatori è stato anche stabilito l'impegno delle aziende ad acquistare una centralina di controllo della qualità dell'area che verrà inglobata nel sistema più generale di monitoraggio gestito da ARPA e misure compensative per migliorare la qualità delle strutture pubbliche del territorio comune, aziende e comitato hanno anche stabilito di aderire alla nuova applicazione informatica che costituirà un ulteriore strumento di misurazione e di controllo creata in collaborazione con il CNR soddisfazione espressa dal comitato cittadino anche a fronte dell'impegno assunto dalle aziende di controllare i propri impianti in modo da eliminare i disagi residenti previsti anche una serie di investimenti che saranno necessari da parte delle aziende stesse di Nera Montoro per adeguare e incrementare il sistema di controllo dell'ambiente e per modalità condivisa di comunicazione confronto con la comunità Fondi alla provincia di Perugia per 3 milioni di euro per realizzare opere contro i dissesti idrogeologici lungo la viabilità provinciale l'ufficialità è arrivata nel pomeriggio un finanziamento che rientra nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza più di 1.200.000 euro 1.240.000 euro per il consolidamento del corpo stradale all'altezza di Gubbio sulla strada provinciale 207 poi quasi 900.000 euro per la strada provinciale 421 di collazione e più di 870.000 euro per la strada provinciale 310 tratto 2 di Paciano questo è quanto arriva nell'ufficialità di oggi dalla provincia di Perugia per quanto riguarda i fondi al PNRR contro il dissesto idrogeologico adesso andiamo a Terni per parlare del museo delle raccolte paleontologiche dell'Umbria con l'assignalazione Movimento 5 Stelle che parla di grave degrado proprio intorno alla struttura a Terni andiamo il nuovo paleolab di Terni il museo delle raccolte paleontologiche dell'Umbria meridionale espone reperti riportati alla luce principalmente nel territorio ternano e cronologicamente riferibili a circa 2 milioni di anni fa ad oggi la struttura è visitabile solo su pronotazione scrivono in una nota i consiglieri del Movimento 5 Stelle mentre la situazione che si presenta all'esterno agli eventuali visitatori o ai semplici passanti è di totale incuria e degrado i consiglieri pentastellati hanno quindi presentato un'interrogazione per chiedere alla sindaco Latini e alla giunta se sono al corrente della situazione in cui versa il sito museale quali siano gli accessi del paleolab nel 2022 e quali gli interventi che la giunta intende attuare per mettere in sicurezza e ripristinare il sito i piloni a protezione della pavimentazione sono stati scardinati e gettati a ridosso della parete denunciano i consiglieri inoltre dal pavimento spuntano pericolosi strapuntini di ferro e la fontana di lato è piena di sporcizia con acqua putrida e stagnante sacchi di immondizie sono appoggiati a ridosso dell'entrata e a terra c'è addirittura una corona secca il paleolab contiene un tesoro concludono i consiglieri del movimento che però non sembra interessare all'attuale maggioranza in Umbria c'è bisogno di sangue c'è bisogno di te questo è lo slogan della nuova campagna Avis per promuovere la donazione del sangue presentata questa mattina a Terni Alessio Romanelli questa nuova campagna parte da Terni perché a Terni soprattutto c'è bisogno di donare il sangue la necessità di donare il sangue c'è in tutta l'Umbria oggi sostanzialmente dobbiamo dire che anche in Italia è necessario ulteriormente implementare le donazioni di sangue ma in Umbria e in special modo a Terni dobbiamo fare di più perché c'è un centro ospedaliero estremamente importante con delle eccellenze che però assorbe tanta 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 richiesta di sangue per poi dar corso a quelle che sono le richieste terapeutiche o di interventi chirurgici e per questo abbiamo ideato questa campagna promozionale in Umbria c'è bisogno di sangue c'è bisogno di te e quindi diventa donatore e donatore non occasionale ma periodico nello scorso anno tutto sommato in Umbria i donatori abbiamo fatto il nostro dovere perché pur con una leggerissima flessione dell'1% però abbiamo garantito oltre 38.000 donazioni di sangue e plasma la vera carenza a livello regionale è il plasma abbiamo una carenza del 30% circa del plasma necessario per il fabbisogno Umbro a Terni c'è anche necessità però di donazioni di sangue intero proprio per queste richieste diciamo conseguenti anche all'emergenza Covid c'erano stati degli interventi chirurgici che erano stati sospesi negli anni passati lo scorso anno ma anche nel 2021 sono stati recuperati e quindi aumentato il fabbisogno di sangue rispetto all'anno precedente nel 2021 le esigenze di sangue sono aumentate del 17% i consumi lo scorso anno una cifra leggermente più bassa ma sempre importante e questo è con una media che è ben al di sopra di quelle che sono le medie nazionali di aumento di consumi di sangue il che è positivo perché vuol dire che nella nostra regione la sanità è ripresa a funzionare le sale operatorie sono state riaperte gli interventi chirurgici li si stanno recuperando però questo ci mette di fronte a questa esigenza di trovare nuovi donatori di avere nuove donazioni andiamo adesso a parlare del museo paleontologico Boldrini di Pietrafitta perché arriva una novità dal ministro della cultura che ha risposto alla missiva della civica Picaro per affrontare questa questione che ci spiega Alessio Romanelli il museo Boldrini di Pietrafitta ha le potenzialità per diventare un polo di cultura paleontologica e naturalistica per far rivivere un'area ormai abbandonata e attrarre visitatori e ricercatori questo il pensiero del gruppo consigliare della civica Piegaro che aveva portato il suo capogruppo Augusto Peltristo insieme ai consiglieri Roberto Pinzo e Gian Maria Tei e alla paleontologa Adria Faraone ad inviare a dicembre una missiva al ministero della cultura oltre che alla regione dell'Umbria e alla direzione regionale dei musei umbri il nostro gruppo ha dichiarato Peltristo vuole ringraziare il ministro del turismo e la direzione generale musei per aver da subito prestato attenzione alla nostra richiesta in cui abbiamo rappresentato in poche righe la storia del museo Luigi Boldrini le due problematiche principali delle sito museali in questione secondo la civica Piegaro sono lo stato di conservazione dei fossili e la valorizzazione di questa collezione a tale riguardo ha aggiunto il capogruppo abbiamo richiesto informazioni alle direttore della direzione generale musei Pierini se sono stati effettuati o programmati gli interventi di consolidamento e di restauro come dichiarato ancora aggiornamenti che arrivano ad eterni in questo caso però in realtà da Roma la commedia di diputati si è tributa a una conferenza stampa con la presenza anche del sindaco latini e con il sottosegretario al ministero della cultura la senatrice Lucia Borgonzoni che ha confermato il progetto di un festival cinematografico di livello nazionale dedicato a San Valentino si è vicino a San Valentino San Valentino edizione 2023 a Terni la festa dell'amore è appunto un festival dell'amore realizzare proprio a Terni già dal 2024 con il sostegno del ministero della cultura e ancora Terni in uno stretto rapporto di collaborazione per far crescere la sinergia istituzionale e lavorare per sostenere una scuola sempre più all'avanguardia questo l'obiettivo degli accordi tra provincia di Terni ufficio scolastico regionale e di ambito territoriale che illustreranno una conferenza di venerdì particolare del trasferimento degli uffici dell'USR di Terni nei locali messi a disposizione della provincia Palazzo Bazzani tra poco la pagina sportiva arriviamo subito vuoi regalare alla tua casa il massimo del comfort e dell'eleganza scegli le finestre forti infissi alta efficienza design unico e realizzate 100% in Italia shabby industrial vintage contemporaneo rustico classico o moderno scegli per la tua casa lo stile che più ti piace forti infissi ha una finestra per ogni tendenza oggi grazie agli incentivi eco bonus forti infissi ti riconosce uno sconto in fattura immediato del 50% e non dovrai attendere 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali ti aspettiamo in totale sicurezza nei nostri showroom a Perugia Foligno e Arezzo prenota subito un sopralluogo con preventivo gratuito regalati un prodotto unico con una finestra forti infissi ora più che mai scegliamo prodotti italiani scegliamo di essere forti insieme grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Seduta mattutina a porte chiuse per la Ternana in vista della sfida di sabato prossimo quando alliberata alle 16.15 arriverà il Parma. Buone notizie per quanto riguarda Antonio Palumbo. Il centrocampista infatti è stato dimesso ieri mattina dall'ospedale Santa Maria di Terni dove si trovava ricoverato da domenica per una colita addominale che lo aveva costretto a saltare la trasferta a Cosenza. Le condizioni di Palumbo ieri tenuto a riposo saranno monitorate dallo staff medico per valutarne la possibilità di impiego nella sfida di sabato. Il confronto con la corazzata emiliana servirà a testare le ambizioni di promozione della Ternana in un autentico scontro diretto per i play-off. Il Parma, reduce dalla vittoria col Genoa, si è rafforzato ulteriormente nella sessione invernale, testerando l'esterno Zanimacchia dalla Cremonese. La Ternana invece arriva all'appuntamento con i Ducali dopo il 0-0 contro il Cosenza, ultimo in classifica, contro il quale però il Parma aveva perso la settimana precedente. Aurelio Andreazzola è in apprezzione per le condizioni di Mantovani e Favilli che hanno saltato l'allenamento di ieri a causa dell'influenza, mentre Capuano continuò a svolgere il lavoro personalizzato di recupero. Intanto partiamo con il portiere greco. Come è nata questa scelta di venire a Rubio e come è nata la scelta per venire a Rubio? Buongiorno a tutti, è un'occasione che mi ha dato la società, io ero a casa e sono stato fortunato a trovarmi in questo momento, in questa situazione. Ero svincolato da sei mesi e ora sono pronto a rimettermi in gioco. Come sono stati questi mesi per te? Di attesa? È difficile, stare a casa è difficile. Non è mai bello vedere tanti compagni, comunque tutti che giocano, io sono a casa. Però poi capisci che bisogna lottare e ci sono anche dei momenti in cui può succedere di stare a casa. È importante poi farsi trovare il progetto.